La scelta di una macchina sottovuoto a campana carrellata o da banco viene fatta in base alle differenti necessità in merito a dimensioni del prodotto da confezionare o alla produttività sacchetti ora. Una macchina di grandi dimensioni ci permette di confezionare grosse pezzature ma allo stesso tempo ci consente di chiudere più sacchetti in un solo ciclo. Comune a tutte le macchine ma di fondamentale importanza è il rapporto tra dimensione della barra saldante e potenza di aspirazione della pompa. Maggiore è la capacità di estrazione della pompa, inferiore è il tempo del ciclo di confezionamento. La scelta di una macchina ma di fondamentale importanza è il tempo di confezionare o allo stesso tempo di confezionare o allo stesso tempo di confezionare o allo stesso tempo. Grazie a tutti.